Sono libri, io li chiamo stupidi, ma hanno una trama seria, poi io raccolto di stupidità con molte ironie, molto humorismo, perché è quello che mia mamma mi ha passato, il humorismo, parlo anche di cancro, di droga, di cose insomma un po' pesanti, ma sempre con humorismo, perché è così che si affrontano le cose, se no ti puoi sparare in testa, naturalmente. Una volta, penso che sia nel 1985 a Lughevara, ci stavamo parlando così, il mio amico si chiamava Limpido, perché è una persona preciso, preciso, pulito, come non dice mai una mogia, disse ai tempi non c'erano il cellulare, c'erano le cabine telefoniche, vado a chiamare la mia bella, quindi partì dal bar con uno zaino di misettoni e andrò su una bella cabina, del Ponte Rosso, era praticamente il 12 di agosto, quindi 45 gradi, erano le due di pomeriggio, la leggenda narra che gli antenati della TV, quindi la SIP, telefonavano ai vigili per dire che la cabina era occupata 8 ore, i vigili arrivavano alla cabina alle ore 10 di sera, e trovavano Limpido al telefono, un po' sudato, con la sua bella, gli bussavano dalla porta e gli dicono, tutto bene, è Limpido, 5 minuti si possono avere per la telefonata, Poi tornò al bar, verso 10 e mezza, si, poi ero arrabbiato, se vissi l'aveva fatto smesso di telefonare, ero al bar si è seduto, abbiamo avuto tipo un bicchiere di limoncino o altro così, perché la gola è ovviamente secca, è vero, se credo, e lui è diventato Limpido, quindi com'è andata? Non ci siamo capiti, adesso lo riprovo. Un'altra cosa che è successo a me, per esempio della cabina telefonica, che ai tempi, quando dovevi chiamare la tua bella, ora avvi il telefono in casa, ma appena stai il telefono c'erano mamma, papà, nonno, l'hanno tagliavano, le mandavano, e quindi tu fai il monoseguito, sì, ok, ciao, andavi alla cabina telefonica, Io che ero già un po', insomma, mezzo spigatello, un po' avanti così, avevo scritto una canzone per una ragazza, allora, vado nella cabina telefonica, piazza del Duomo, 6 di sera, un sabato pomeriggio, quindi immagini, tra i tempi, insomma, il clou, vado nella cabina con la mia vitarina, musica, mi chiamano la donzella e comincio a suonare la canzazzina, quando sono uscito, non mi ero giusto conto che dopo c'era la figlia di città della telefonaria, e mi guardavano così, praticamente c'è un tico che mi fa, spiegato, ma te l'ha data? La vecchietta, ma come sei romantico, voi mi sono, eh? Ricordiamo i titoli, l'erofambolesca, avventura di un romantico alcolista, semplicemente alla ricerca di un pensiero felice, e questo è il primo, e invece quello che è uscito di recente proprio, un mese fa, la transalcolica vita di Angie e Artù, come una favola, un sorriso in faccia al cancro. Sono due romanzi di Miller o Gagliem.